Ed è partita questa serie unica 300 metri, è stato di gomme, gara a Induto, vediamo subito che Allende si porta a passare per prima le scatele, ha preso vantaggio, fa un lungo vantaggio sia anche il ritorno 39 e 70, voglio sentire la rinascinita, voglio attraversi, Grazie a tutti, grazie a tutti.